Episodio 20 del corso di Mi Journey, oggi parliamo del comando slash describe. Eccolo qua, se sapete l'inglese o lo potete intuire, describe va a descrivere. Ma va a descrivere cosa? Vedete che dobbiamo andare ad allegare un file, quindi potete capire che andrà a descrivere un'immagine. Cosa vuol dire andare a descrivere un'immagine? Vuol dire che noi passiamo a Mi Journey un'immagine e lui andrà a darci una descrizione in base al suo modello. Quindi prenderà l'immagine e cercherà di darci un prompt in merito a ciò che vede. Questa cosa può tornarci utile se abbiamo delle immagini che vogliamo andare a replicare, ma magari non sappiamo bene come fare. Quindi possiamo prendere degli spunti su come Mi Journey effettivamente vede le immagini. Se io vado a prendere le immagini che ho scaricato, guardate qua, avevo generato questa qua, ve la ricordate? La vado a ripescare perché l'ho scaricata e la trascino. Ecco qua, la trascino, vedete? È questa qui, non so se si vede nella registrazione o meno, dovrebbe vedersi. Perfetto, eccola qua. Io faccio invio e adesso vedete che Mi Journey sta lavorando, ci sta lavorando sopra l'immagine. E a breve, ecco qua, non ho fatto neanche in tempo ad aspettare, e a breve ci dà la descrizione. Quello che vedete, questa è la nostra immagine, abbiamo quattro descrizioni. Abbiamo Enanime City, quindi una città anime con il sole che sta tramontando. Lo stile delle luci è marrone e indigo. Indigo è un po' sul viola, quindi violaceo e marrone. Scott Samuel Summers, non so cosa sia, però lui l'ha identificato. Una view romantica, anche se di romantico non so quanto possa avere, però a detta sua sì, comic art, perché effettivamente non è troppo anime, è più comic, dopodiché abbiamo 32K, UHD, Tammy Chang, non so chi sia, high resolution, perfetto, e ha beccato il parametro, effettivamente 7 quarti, è 7 quarti. Dopodiché sotto abbiamo altre descrizioni molto, molto simili. Adesso cosa possiamo fare? Abbiamo sotto quattro numeri, che guarda caso fanno riferimento alle descrizioni, e poi il tasto rigenera. Proviamo a rigenerare, e vediamo che cosa ci dà. Ecco qua sotto abbiamo ottenuto, vedete, ha rigenerato altre descrizioni simili, ma non uguali. Adesso che abbiamo la nostra descrizione, volendo possiamo utilizzare uno di questi numeri per generare un'altra immagine, come se fosse una remix mode. Quindi adesso che abbiamo la nostra descrizione, mi piace tanto questo qua, City Sunset, bam. Quello che vorrei provare ad aggiungere è, anziché light magenta e bronze, proviamo light magenta and silver, non so se succederà qualcosa. Vorrei mettere, an animated cartoon of a city sunset, during a rainstorm, semmai ce la prende. Realistic, ta ta ta, perfetto. Proviamo a cambiare qualcos'altro. Aggiungiamo magari clouds, anche se dovrebbe già prendercelo, con la rainstorm. Poi mettiamo le classiche particles, come al solito. Foliage, perfetto. E direi che siamo a posto. Ho aggiunto un po' di roba, magari possiamo aggiungere qualcos'altro. Cat. Se riesce a beccarlo qua in fondo come cat. Noi facciamo invio, e adesso vedete che stiamo, esattamente come era la remix mode, siamo partiti da questo prompt, che è derivato dalla descrizione di questa immagine, l'abbiamo leggermente modificato, e stiamo generando un'altra immagine. Non vedo l'ora di vedere il risultato. Ok, abbiamo il nostro risultato. Sicuramente vedete che la palette colori è diversa rispetto a questa qua. Apriamo, e abbiamo esattamente quello che abbiamo chiesto. Le luci, vedete che sono un po' più silver, silver, insomma è dura vedere l'argento qua, ma se notate, è tutto un po' più grigio. A parte questa qua, l'ultima, la 4, dove è più simile la palette colori di quella iniziale, ma vedete che è tutto un po' più grigio, quindi silver sul grigio, e soprattutto ci ha preso clouds, ci ha preso la rainstorm, perché vedete che abbiamo rain, particles non particolarmente, vabbè, a meno che l'abbia prese come le gocce di pioggia, però direi che abbiamo ottenuto un bel risultato partendo da questa immagine, perché questa immagine non ha quasi niente a che vedere con questa immagine, dove abbiamo cambiato la color palette, abbiamo messo la pioggia, e direi che è molto molto bella. Sto cercando di guardare, mi sentite parlare un po' meno, o quantomeno dubbioso, perché sto cercando di capire se c'è un gatto da qualche parte, magari su un tetto, forse se facciamo l'upscale e guardiamo si potrebbe anche trovare, però questo è il describe. Una volta che però abbiamo fatto il remix con l'immagine, voi notate che abbiamo esattamente le stesse cose che abbiamo avuto durante tutto il corso per queste immagini, quindi abbiamo la possibilità di fare l'upscale dell'immagine, di fare la variante, di fare il refresh, proviamo a fare un refresh, e proviamo a fare una variante sulla 3. questa cosa eccede dalla lezione del describe, però giusto per farvi vedere come partiamo da una singola immagine, andiamo a trovare la descrizione che ci interessa, dopodiché da qua lavoriamo esattamente come abbiamo sempre fatto. In aggiunta, volevo farvi vedere e volevo mettere l'accento su queste cose, ad esempio, Tammy Chang è la seconda volta che lo cita, provo a premere, faccio sì, ed ecco qua, vado su Google, Artist Tammy Chang, ecco qua, quindi, in certe situazioni, porto via, in certe situazioni, vedete come vi mette i link su riferimenti che possiamo andare a cercare su Google, in più, vedete quante parole aggiuntive Mi Journey usa che noi magari non abbiamo neanche nel nostro vocabolario, perché ad una view romantica io non c'avevo mai, mai, mai pensato in tutta la mia vita, quindi andare a vedere come Mi Journey va a descrivere le immagini è importante, perché se Mi Journey da questo risultato ottiene delle descrizioni simili, noi da descrizioni simili possiamo ottenere un risultato simile, ma non è il discorso che partiamo da un'immagine che abbiamo già, quindi aggiungere questi vocaboli è importante, come vi avevo stressato il discorso sul guardate la community, prendete ispirazione dalla community, imparate da come parla il bot, certo i bot più vanno avanti le versioni più stanno cercando di adeguarsi a come parliamo noi, però vi rendete conto come il suo vocabolario anche in termini di artisti insomma non è piccolo, non è piccolo, c'è tanta roba in più, soprattutto perché voi capite che essendo un modello AI ha tanti dati a disposizione, magari qualcuno di voi non sa che cos'è l'RTX ed è ad esempio sulle nuove schede grafiche, quindi vedere come va a descrivere e segnarsi alcuni di questi vocaboli o come va a impostare le frasi ci può aiutare a ottenere dei migliori risultati, intanto vediamo il risultato qui sotto della variante molto molto bello, molto molto bello, veramente molto bello e questa è la modifica, tanta tanta roba, stupendo, stupendo, quindi direi che questo è il comando describe, niente di che, molto semplice era capire, nel prossimo video, nei prossimi video andremo a parlare un po' dei vari parametri che non abbiamo ancora guardato, ci vediamo tra poco. e poi